L'importanza di un censimento è quella di fare il punto, un quadro informativo sulla struttura produttiva del Paese, quindi anche perché mette insieme le informazioni che riguardano le imprese ma che riguardano anche le istituzioni pubbliche e le istituzioni non profit. Quello che emerge da questo censimento è che fondamentalmente rispetto a dieci anni fa c'è stata una crescita abbastanza limitata del sistema delle imprese e questo è abbastanza naturale, considerato anche dal 2008 in poi le imprese italiane hanno conosciuto dei momenti di difficoltà connessi anche alle crisi, non solo italiane ma a livello europeo e più in generale internazionale. L'altro polo molto interessante è che gli addetti delle istituzioni pubbliche nei dieci anni diminuiscono ad eccezione di province e gli entiti intermedi, quelli per esempio che noi chiamiamo comunità montane, comunità isolane, unione di comuni, lì invece c'è un incremento dell'occupazione dipendente e forse il fatto più evidente sotto il profilo dei numeri che emergono è che c'è una forte crescita del settore non profit negli ultimi dieci anni sia in termini di numerosità delle istituzioni che in termini di addetti dipendenti che in termini di volontari, questo è molto importante, c'è un effetto sostituzione anche fra pubblico e privato perché diminuisce l'occupazione dipendente nel settore dell'istruzione pubblica mentre aumenta in quello dell'istruzione privata e anche del settore non profit e lo stesso avviene anche nel sistema dell'assistenza sanitaria. La struttura produttiva del paese va verso un'ulteriore terzializzazione anche tra le imprese, c'è una diminuzione nel decennio dell'occupazione nella manifattura e prosegue invece la crescita degli occupati non soltanto in termini dipendenti nei servizi e nel commercio.